benvenuti al meteo vediamo le previsioni per le prossime ore sulla nostra regione cielo coperto su tutto il molise venti deboli mare poco mosso temperature in lieve aumento campo basso minima 1 massima 4 gradi isernia 2 7 termoli 9 9 a boiano temperature comprese tra 2 e 6 gradi a larino temperatura minima 4 massima 7 gradi agnone 1 2 venafro minima 2 massima 10 gradi